La tragedia del bacino idroelettrico di Suviana sull'Apenino Tosco Emiliano con il suo carico di vittime è solo l'ultimo capitolo di un libro che mai sembra giungere alla sua pagina finale, quello delle morti sul lavoro. Ed oggi lo sciopero di quattro ore, indetto su scala nazionale da CGL e Will per richiamare l'attenzione su temi quali sicurezza nell'esercizio dell'occupazione, giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale d'impresa, ha visto a Sondrio dinnanzi alla prefettura la manifestazione con un presidio davvero partecipato, poco prima l'incontro tra i rappresentanti sindacali provinciali delle due sigle ed il prefetto Roberto Bolognesi. Noi oggi abbiamo incontrato la prefettura, la prefettura abbiamo manifestato quelle che sono le ragioni alla base di questo sciopero di oggi, di questa manifestazione ed è la manifestazione che ci sarà a Roma il 20 di aprile. Abbiamo inoltre messo lì alcuni temi di carattere locale. Il primo è un tema legato ai cantieri edili, sui quali oggi non c'è una lingua comune tra i lavoratori e diventa complicato anche capire i segnali di allarme. La seconda è quella che in un momento nel quale ci dovesse essere un'accelerata sulla tangenziale di Tirano per ultimare quell'opera prima dell'evento olimpico, potrebbero confluire molte aziende e molti lavoratori su quel cantiere, creando un rischio insito nel sovraffollamento. Preventivamente vorremmo una timbratura anche su quel cantiere. L'ultima è quella di sensibilizzare sull'itinere perché abbiamo molti lavoratori che non si possono permettere la macchina, che circolano quindi con mezzi di fortuna dalla bicicletta al monopattino, vanno a piedi. Lavoratori che troppo spesso rimangono vittime di incidenti stradali mortali. Una provincia, la nostra, non esente da questo inquietante fenomeno. Solo il 22 marzo scorso avvaldi dentro la morte di un geometra 51enne rimasto schiacciato da alcune lastre di legno. Le statistiche parlano di 1.050 morti all'anno, che il numero sta crescendo, vuol dire 3 morti al giorno, più di 700.000 infortuni, vuol dire 1.500-1.600 infortuni al giorno. Ormai sono più di una volta che stiamo protestando, chiedendo al governo di intervenire fortemente su questa materia. Il lavoro è, una volta era la dignità, adesso sta diventando la vita del lavoratore. Una cosa è certa, che il grido di allarme non viene mai ascoltato dalle istituzioni. Già da tempo si dice che ci sono pochi controlli, che la formazione dei lavoratori è scarsa, che l'utilizzo di lavoratori non formati, soprattutto attraverso l'uso di cooperative o di altri strumenti che purtroppo sono previsti dal nostro Stato, portano inevitabilmente a queste conseguenze. Grazie.